Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui con il quattordicesimo episodio delle barzellette barra freddure di frutta marcia. Oggi per voi questa barzelletta. C'è questo signore che dice a sua moglie, e poi di ancora che non sono un bravo padre, oggi sono andato a prendere il nostro figlio a scuola. Amore, ma guarda che noi abbiamo due figli. Ah, ecco perché quel ragazzino inseguiva la macchina.